Un altro caso di morsicatura da ragno violino. Questa volta è accaduto a Casal Boccone, vicino a Roma. Vittima un 52enne, da poco trasferito in zona. Era spasso con il suo cane e si è seduto su una panchina per fumare una sigaretta. Rientrato in casa, diverse ore dopo ha notato una grande macchia rossa sulla gamba. Poco dopo ha iniziato a avvertire forti dolori alla gamba e la febbre è iniziata a salire fino a 39 per due giorni. L'uomo ha raccontato ad essersi recato a loro in una farmacia a talenti dove una dottoressa ha riconosciuto il morso del ragno violino e gli ha prescritto una crema ed è cortisone a dosi alte. La cura ha funzionato, non è stato necessario rivolgersi al centro antiveleni, ma è sempre bene, raccomando i medici, rivolgersi a una struttura sanitaria in presenza di necrosi della cute, dolori o febbre. Gli ultimi casi riportati dalla cronaca hanno scatenato una sorta di fobia per un animale che è da tempo presente nelle nostre case, ma solitamente non si fa notare, a parte poche eccezioni. I casi di infezione, seppure rari, vanno riconosciuti e trattati subito, però a partire dal morso sulla pelle.